Moliseacca, l'annuncio tra le parti sociali, aziendali e politici e circa i numerosi dipendenti non ancora stabilizzati sarebbe di fatto illegittimo, secondo i dirigenti CISL. I percorsi di riprese economici e sociali sono alla base delle iniziative sindacali, l'UGL ha voluto rilanciare l'impegno per i lavoratori del settore metalmeccanico. Il Neonomed di Pozzilli avvia un nuovo studio in ambito nazionale finalizzato alla ricerca degli effetti che il virus ha avuto sullo stile di vita delle persone, questionario e per tutti online. Un mercatino della cipolla bianca diverso rispetto agli altri anni e nel rispetto delle regole sanitarie, Isernia punta tutto sulla produzione locale dei giovani agricoltori. Buongiorno cari amici telespettatori e buon inizio settimana e ben tornati con l'informazione del telegiornale di ITLT. In apertura parliamo ancora di lavoro, l'annuncio recente accordo tra le parti sociali, aziendali e politiche circa i numerosi dipendenti non ancora stabilizzati dell'azienda Moliseacque sarebbe di fatto illegittimo, questo secondo i dirigenti del CISL Funzione Pubblica, ma andiamo a vedere nel dettaglio. La dirigenza regionale della CISL Funzione Pubblica ha fatto pervenire agli organi di stampa la copia della nota inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'azienda speciale regionale Moliseacque e per conoscenza al Presidente Donato Toma. L'argomento è relativo all'ipotesi di accordo aziendale avente ad oggetto la disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritto solo qualche giorno fa dall'assessore regionale al lavoro Michele Marone, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di Moliseacque Giuseppe Santone e dalle categorie sindacali di UIL e CGL attraverso i segretari Tecla Boccardo e Antonio Amantini. Per la CISL Funzione Pubblica, come detto, l'ipotesi di accordo è illegittima e in alcuni visi procedurali, come quello in cui si ravvisa che non risulta una regolare previa convocazione del titolo propedeutico e il fatto che la materia oggetto di questa ipotesi di accordo aziendale non rientra tra quelle pertinenti alla contrattazione decentrata integrativa. Queste ravvisate caratteristiche di nullità fanno sì che non è possibile da parte dei dirigenti CISL essere presenti all'incontro, fissato per la mattina di oggi con lo scopo di apporre la firma su un accordo aziendale che parte come illegittimo e illegittimo resta. Intanto però la scrivente organizzazione sindacale sottolinea che per essa resta fermo l'obbligo da parte aziendale di assumere a tempo determinato il personale del concorso pubblico espletato nel 2018 e a tempo indeterminato tutti i lavoratori che hanno maturato i requisiti secondo il decreto legislativo numero 81 del 15 giugno 2015, uno strumento legislativo che restituisce la dignità ai moltissimi lavoratori che spesso sono sotto il ricatto di perdere perfino quella precarietà acquisita. Ma non solo, sottolinea che resta fermo anche l'obbligo, sempre da parte aziendale, di rispettare l'impegno che aveva assunto il 6 dicembre 2017 con tutte le organizzazioni sindacali, impegno che precisamente recita che l'ente, secondo le richieste da parte sindacale, si impegna ad attivare percorsi per l'attuazione delle progressioni verticali del personale interno dipendente a tempo indeterminato. E tornerà domani mattina a riunirsi a Palazzo d'Aemo a Campobasso il Consiglio regionale tra i numerosi argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, le integrazioni del piano per lo sviluppo del turismo e della stazione sciistica di Campitello Matese, il miglioramento del servizio di continuità assistenziale, l'emergenza ambientale, tutte le questioni portate in aula dalle minoranze di centro-sinistra. E i percorsi di ripresa economici, sociali e culturali sono alla base delle iniziative delle organizzazioni sindacali in ogni parte d'Italia in questo momento. Tra le ultime iniziative è quella dell'UGL che ha voluto rilanciare l'impegno per i lavoratori del settore metalmeccanico. Andiamo a vedere. Chiedono la massima attenzione del Governo centrale e delle regioni, le varie organizzazioni sindacali e lo fanno dopo i mesi di blocco delle attività attraverso molte iniziative che si prefiggono nuovi ed incisivi meccanismi di ripresa lavorativa, economica, sociale e culturale. Una serie di percorsi operativi come quello dell'UGL che a Campobasso parte dall'attenzione per il settore metalmeccanico ma si occupa di molti altri comparti. Ne parliamo con Nicolino Libertone, segretario regionale dell'UGL Molise. Ci sono tantissime aziende che lavorano in concomitanza con la Fiat quindi immaginiamo se non c'è una ripresa, una chiusura proviamo a immaginare la chiusura della Fiat a Termolo sarebbe un disastro generale a livello sociale e quindi anche lavorativo. Ma anche negli altri settori c'è tanta sofferenza perché ancora non si riparte proprio al 100%, si tenda di ripartire però basti pensare la cassa integrazione che ancora oggi non viene erogata solo a noi risulta qualcuno che possiamo contare sulle dite delle mani io personalmente sto da aprile a cassa integrazione ma ancora non vedo una lira quindi questo è gravissimo perché poi assistiamo giornalmente mi dispiace dirlo, perdonatemi sia i politici di maggioranza che di opposizione ma a livello regionale riscontriamo che si litigano sul quinto assessore, sul sesto a chi deve fare l'assessore ma poi i problemi reali dei lavoratori, del sociale, dell'agenda mi sembra che non se ne parli, si parla semplicemente di potere. E l'assessorato regionale all'agricoltura in merito alle dichiarazioni rilasciate dal consigliere regionale Vittorino Facciolla relative alle presunte inadempienze degli uffici tiene a precisare che la struttura nonostante le difficoltà a causa dell'emergenza covid sta assolvendo i suoi impegni offrendo i servizi necessari possibili a confermare ciò si specifica che il riferimento al carburante agricolo agevolato il numero delle ditte risultate inadempienti nel 2017 si è drasticamente ridotto negli anni successivi compreso quello seguente per rispondere alle esigenze degli agricoltori la struttura si rende noto stra predisponendo anche la proroga fino al 31 di luglio delle operazioni di verifica dei consumi dell'anno del 2019 e tra pochi giorni saranno attive nuove regole per i contratti con le assicurazioni specifici della responsabilità civile per le automobili le novità arrivano dalle norme stabilite da un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico ma vediamo di cosa si tratta la gazzetta ufficiale del 17 giugno pubblica un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dove si evidenziano le nuove regole contenute nei contratti base di assicurazione relativi alle responsabilità civili derivanti dalla circolazione degli autoveicoli una novità dunque che andrà in vigore dal 2 luglio dove si stabiliscono le condizioni contrattuali di base ma anche quelle cosiddette aggiuntive cioè quelle liberamente offerte dalle compagnie che poi di fatto incidono sulle diminuzioni o sugli aumenti dei premi assicurativi la questione è stata affrontata soprattutto perché orientarsi al meglio nell'universo delle polizze assicurative è una pratica spesso assai complicata che non sempre si riescono a comprendere quali sono le coperture necessarie e quelle dove al contrario si può ottenere un risparmio ci si mettono anche le clausole aggiuntive che a volte bisogna quasi tradurre visto e considerato il complesso modo di esplicitarlo sui fogli del contratto che si andrà a sottoscrivere il decreto del Mise individua le condizioni del contratto base dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli limitandosi alle autovetture, ai motocicli e ciclomotori ad uso privato dei consumatori e definisce appunto le condizioni aggiuntive allo stesso contratto dal Ministero si prevede che ogni compagnia possa liberamente determinare il prezzo del contratto base e delle condizioni che si andranno ad aggiungere ma deve mettere in evidenza la riduzione o l'aumento del premio le imprese devono anche per obbligo formulare l'offerta al consumatore anche tramite il proprio sito internet e utilizzando un modello elettronico chiamato nuovo preventivatore pubblico predisposto dal Ministero in collaborazione con l'Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni il preventivatore raccoglie di fatto i dati dei siti e li mette a disposizione dei consumatori in modo che essi possano confrontare le varie offerte e torniamo adesso a parlare di sanità l'estate è arrivata ma con essa non sono state però risolte le problematiche legate ai servizi ospedalieri per i residenti e turisti in arrivo personale carente nelle corsie degli ospedali di Termoli e Larino ma andiamo a vedere nei nosocomi del Basso Molise la situazione dell'assistenza ai malati è tutt'altro che migliorata nonostante sia trascorso molto tempo dal ritorno dell'operatività dei servizi ospedalieri fioccano le denunce per le quotidiane difficoltà di pazienti e familiari legate agli ingressi per le regole imposte in ambito nazionale dalla diffusione del virus unite alla carenza di medici e infermieri soprattutto con l'arrivo della bella stagione per le associazioni del posto non è più tollerabile continuare a rinviare la risoluzione delle problematiche che affliggono la sanità a Termoli come a Larino le criticità stanno mettendo a dura prova il diritto alla salute di almeno un terzo della popolazione regionale in queste giornate di caldo a foso soprattutto gli anziani sono costretti in fila sotto il sole per ore e senza avere un'indicazione precisa sul dove dirigersi per i servizi sanitari di interesse se non con cartelli di fortuna posti ai cancelli di ingresso non può essere certo questa la sanità pubblica del 2000 politica e azienda sanitaria sono chiamate a mettere al bando le incomprensioni ed arrivare ad una sintesi in grado di risolvere le esigenze di gente che invecchia anno dopo anno intanto dal primo luglio parte sul litorale molisano il servizio di guardia medica turistica lo annunciano i sindaci di Termoli Francesco Roberti e di Petacciato Roberto Di Pardo l'ASREM ha comunicato l'attivazione dalle 8 alle ore 20 del servizio inoltre ci sarà anche quello di salvamento attivo già a Petacciato che dispone anche di un difibrillatore bombola di ossigeno per il primo soccorso e la Neuromed di Pozziglia avvia uno studio per capire gli effetti che la pandemia e il blocco di questi mesi hanno avuto sulle abitudini e gli stili di vita delle persone tutti i cittadini sono invitati a partecipare lo studio in ambito nazionale vediamo capire e studiare gli effetti che il coronavirus ha avuto sulle persone come cambiano gli stili di vita e la concezione della cura attraverso un questionario online aperto a tutti il Neuromed di Pozziglia avvia uno studio in ambito nazionale per capire come l'emergenza abbia influenzato il benessere psicofisico e non solo è con questo obiettivo che il Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione ha avviato la ricerca che punta ad indagare come l'emergenza abbia influenzato le conoscenze e le conseguenze mediche e sociali l'invito è per tutti i cittadini italiani ed è semplicemente quello di compilare un questionario disponibile sul sito web dell'istituto che sarà totalmente anonimo e nel rispetto delle normative vigenti sulla privacy si tratta di esaminare moltissimi aspetti relativi a come le persone di tutte le età abbiano conservato modificato il loro stile di vita l'attività fisica l'attenzione verso la propria salute e il rapporto allo stress legato all'isolamento e alle preoccupazioni per la malattia e si svolgerà le 18.30 di questa sera il webinar Molise Post-Covid ricostruire il futuro promosso dall'associazione politica a fianco a fianco di guionesi vi parteciperanno personalità politiche di rilievo nazionale come l'onorevole Deborah Serracchiani vicepresidente del Partito Democratico è necessario sottolineano dall'associazione valorizzare le risorse avere capacità di fare imprese e ricostruire un nuovo tessuto socio-lavorativo che è stato penalizzato dalla recente crisi e parliamo invece adesso di mobilità sostenibile Campobasso non è tra le città virtuose per il dossier Città Mezzo 2020 legambiente chiede pertanto all'amministrazione comunale di procedere all'attuazione di un piano urbano specifico ma vediamo l'Italia seppur in ritardo rispetto agli altri paesi europei si avvia pian piano verso una mobilità sempre più sostenibile tuttavia non tutte le città hanno ancora preso a pieno questo concetto e tra queste c'è anche Campobasso a riportarlo lo studio Città Mezzo 2020 a cura di legambiente che ha fotografato la situazione della mobilità urbana prima dell'epidemia da Covid-19 rilevando che sebbene si riscontrino margini di miglioramento la penisola presenta ancora una notevole presenza di veicoli privati fossili al primo posto in Europa eppure in alcune grandi città come Milano Napoli Venezia Bologna e Firenze più di un terzo degli spostamenti si compie a piedi in bici o in tram o in bus elettrico i dati dimostrano che gli spostamenti delle persone stanno quindi cambiando con sempre maggiore propensione a scegliere la mobilità di emissioni zero il capologo di regione però scilla le auto infatti sono ancora il mezzo di trasporto più utilizzato mentre risultano negative le percentuali degli spostamenti a piedi creando un dato affiancato alla scarsità delle zone piedonali peccano anche gli spostamenti in bicicletta e questo però anche a causa della mancanza di percorsi ciclabili carente anche l'utilizzo del trasporto pubblico locale altro dato negativo è poi l'assenza di un sistema cittadino di mobilità condivisa a fronte di un elevato numero di veicoli matricolati in città 72 per ogni 100 abitanti bene però si presenta la qualità dell'area dove viene dato un voto pari a 8 su 10 sulla base di questi risultati legambiente però si rivolge all'amministrazione di Palazzo San Giorgio chiedendo che venga effettuato alla luce dei risultati esposti un piano green per incentivare i cittadini ad un uso più ragionevole dell'automobile permettendo loro magari anche l'utilizzo di mezzi alternativi e cambiamo argomento un mercato della cipolla meno affollato del solito quello di quest'anno a Disernia per via delle restrizioni anticontagio all'evento è stato però anche l'occasione di riflessione per la produzione del posto ma andiamo a vedere un mercato della cipolla bianca insolito quello di quest'anno a causa delle misure antivirus che però ha consentito di mettere comunque in risalto la qualità dei prodotti e la creazione della cipolla bianca di Sernia da sempre fiore all'occhiello del posto l'evento che si è svolto con la presenza di pochi produttori nei pressi di corso risorgimento ha aperto la strada ad un dialogo atto alla realizzazione di materie prime di qualità presente anche l'associazione LAI lavoro anch'io che a sostegno della riqualificazione della cipolla di Sernia molti prodotti per la vendita e la degustazione insieme agli amici dell'associazione la cipolla bianca di Sernia abbiamo realizzato questi stand insieme il comune ha inteso metterci tutti insieme i produttori di cipolla e paradossalmente pure se è vero che l'azione è molto limitata perché come vedete la fiera non c'è però paradossalmente è un momento molto significativo perché effettivamente si è concentrata tutta l'attenzione sui produttori della cipolla di Sernia e questo è importante per il futuro perché se vogliamo salvare questo prodotto assolutamente dobbiamo metterci insieme cosa che abbiamo fatto con questi giovani agricoltori che producono non solo la cipolla ma anche come poi si vede abbiamo fatto una produzione anche di confettura di cipolla e anche di altri prodotti a base di cipolla e insomma ci siamo organizzati i ragazzi hanno lavorato sull'orto sono riusciti a cavare come si dice le cipolle sono riusciti a lavorare e il comune ci ha messo a disposizione questo spazio nel quale chiaramente stiamo lavorando come tutti gli anni insomma allora l'associazione cipolla di Sernia è un'associazione che abbiamo costituito insieme ad altri amici produttori la cosa più importante è che grazie all'impegno del comune di Sernia e dell'Arsap siamo riusciti ad avere la certificazione DECO che è un'attestazione di origine comunale che attesta l'origine della cipolla questo è un disciplinare estremamente importante per diciamo per il proseguo e per il futuro perché attesta che ogni produttore che ha questo marchio DECO rispetta il disciplinare e quindi chi acquista questa cipolla sa che acquista la vera cipolla di Sernia e partono da oggi a Larino i lavori per l'ampliamento della rete di distribuzione del gas metano per un altro chilometro circa di nuove condotte nelle zone di via Oliveto via Gelsomino con trada Monte Arcano e con trada Fonte Focolare una rete che da oltre 40 anni non ha subito cambiamenti e buone notizie per il turismo arriva al mare sulla riviera Molisana i pediatri premiano ancora una volta le spiagge di Termoli per la sicurezza in favore dei più piccoli andiamo a vedere Rassegna nata nel 2008 la bandiera verde certifica per il secondo anno consecutivo a Termoli l'idea al mare che lasciano la possibilità ai ragazzi di vivere l'estate in piena armonia con il paesaggio il vessillo vuole significare un segno di ripartenza turistica in questo tormentato 2020 è un incoraggiamento ai balneatori e agli operatori tutti nel campo del turismo per cercare di migliorare l'offerta nei prossimi anni quest'anno per il secondo anno veniamo qui ci inorgoglisce questo riconoscimento vuol dire che la nostra città è una città ricettiva turistica e soprattutto per quello che mi riguarda per il mio assessorato è una città a misura di bambino e quindi le nostre spiagge sono sicure dal punto di vista del salvataggio sono attrezzate per loro per giochi spiaggia e acqua quindi noi siamo felici di essere qui e di aver ritirato questo vessillo importante per Termoli e speriamo di continuare così e di avere anche l'anno prossimo questo riconoscimento molto ambito per il nostro turismo e per la nostra città le spiagge termolesi sono sicure dal punto di vista del salvamento e attrezzate per i più piccoli con la speranza per la località molisana sull'Adriatico di mantenere il vessillo anche per il futuro corso di preparazione in via telematica e test per ammissione a medicina e chirurgia all'università degli studi del Molise ancora due giorni oggi e domani per presentare la domanda di partecipazione scadenza 30 giugno dopo c'è lo scatto della mora ma andiamo adesso a vedere le previsioni del meteo Aloha Park Village a Campomarino Lido per non rinunciare al piacere di nuotare in un meraviglioso mare blu sole e caldo a fosso sul Molise dalla sera cielo stellato ovunque temperature comprese tra i 21 e 32 gradi a Campobasso ventilazione di direzione sud-occidentale calmo il mare Adriatico centrale caldo e alta pressione anche domani sulla regione valori climatici stazionari correnti deboli variabili ripescaggio ripescaggi e riammissioni lega pro sono questioni urgenti da affrontare nel consiglio federale della federcalcio la lega nazionale dilettanti torna a ribadire una posizione espressa in modo chiaro dal suo presidente Cosimo Sibilia per le riammissioni in serie C si parla di un ambito che riguarda casi molto specifici individuati dalle norme per i ripescaggi invece la società saranno individuate secondo la graduatoria predisposta dalla delega dilettanti approvata dal consiglio federale ed intanto un'altra conferma per la Magnole a Campobasso la squadra di basket femminile si tratta di Sofia Marangoni la playmaker veronese sono davvero entusiasta di restare nel capoluogo ha detto e ringrazio la società per aver risposto e disposto la propria fiducia nei miei confronti dentro ho ancora un po' di dispiacere per l'ultima stagione non completata ma guardo con ottimismo a questo nuovo anno e con questo servizio è tutto vi ringrazio per avermi seguito e vi rimando alle prossime edizioni arrivederci